Parco chiuso Alex, i nostri fan della Maglia Azzura ci chiedono di raccontargli un aneddoto quello prima del Cile quando hai dovuto fare la patente per la moto beh sì, diciamo che quella forse è stata la cosa più strana perché dato che sono stato convocato all'ultimo io non avevo la patente della moto perché comunque nel motocross non serve così e quando mi hanno convocato il problema principale è stato dover fare subito la patente quindi ho chiamato subito l'agenzia per farmi l'iscrizione velocemente dato che avevo pochissimi giorni per avere il foglio rosa per poter correre quindi tutta una cosa è dopodiché quando sono tornato ho dovuto dare l'esame ho dovuto dare l'esame e io non avevo tempo di andare a fare queste guide cose varie e niente, io ho pronotato solamente l'esame solamente che il mio istruttore mi continuava a chiamare tutti i giorni no perché devi venire a fare una guida perché, perché, perché e gli dice guarda un po' la moto lascio guidare no ma non è vero perché tutti dicono così ma poi sbagliano bisogna che ci stai sopra una moto fino a che non me l'ha menata talmente tanto che sono dovuto andare a fare questa guida e dopo ho dato la patente e tutto bene Ascolta Fabio, l'Italia è reduce da un'azione di cross non è andata benissimo qui abbiamo un pilota che forse avrebbe potuto fare la differenza e non parliamo di Salvini ci racconti un poco? Sì, sicuramente è peccato perché l'Italia era tra le favorite e cosa vuoi? vedi che la fortuna ha girato ancora una volta per gli americani anche se la Francia era tra le favorite anche lei e la fortuna è stata ancora questa volta per gli americani sì, sicuramente Botturi l'avrei visto bene con l'Italia tu mi hai chiesto prima come sarebbe andata la partenza della terza manche se ci fosse stato il nostro Botturi? sai, vedi io lì Tonino è stato un po' caricato non si capisce bene cosa è successo vedi queste moto che esplodono per aria e il Botturi sicuramente in quella circostanza la sua prestanza fisica magari l'avrebbe aiutato a tenerli e sbaragliarsi meglio dagli avversari e anche prima con gli amici scherzando abbiamo richiamato la voce di Giulio Gori e abbiamo rifatto un po' la partenza e io dicevo Botturi dietro al cancello attenzione italiani Botturi al cancello 5 secondi ma attenzione il Bottu sciolto è in folle incredibile l'esperienza di Botturi no, l'inesperienza di Botturi rimane al cancello prima curva agli avversari ma Botturi rimane al cancello no, Botturi niente da fare non sarebbe cambiato nulla però poi magari avrebbe fatto una buona rimonta perché vedi la mucchiata che c'è stata poi poi lui si è bello sciolto nei salti sul triplo in salita poteva andare bello scrabbato sicuramente lì un bel passaggio a ridere lo poteva fare lui c'ha un po' la schiaccia un po' come Pichon faceva una volta lui ce l'ha un po' così no, ma comunque vedete, è un bel gruppo si ride, si scherza ci si prende anche un po' in giro nel limite io spero sia di buon auspicio per riuscire a raccogliere un buon risultato anche se sarà una stagione dura le squadre agguerrite sono tante però il gruppo nostro è unito ci si diverte sicuramente quello aiuta a passare di più la giornata e anche a vederle speciali dato che qua si cammina tanto durante i giorni se comunque durante la giornata quando hai finito di stare concentrato per ricordarti si ride, si scherza meglio dai ti passa meglio questa cosa aiuta un po' anche a scaricare la tensione la pressione che si ha perché giustamente siamo in sei e tutti sei puntiamo a un grande risultato di squadra e anche personale e questo modo così comunque di ridere e scherzare aiuta un po' a non pensare più di tanto alla gara essere liberi di mente poi chiaramente quando è il momento aggredire le prove grazie a tutti